Fernando Di Fabrizio, l'Oasi di Pene si arricchisce di una nuova esperienza che è quella delle telecamere che poi tutto il mondo potrà vedere in diretta le bellezze di quest'Oasi. Da qualche anno che ci stiamo lavorando, perché vogliamo portare nelle aule scolastiche, anche nelle case degli italiani o anche degli altri fuori Italia, un obiettivo sulla natura, su quello che avviene in diretta, questa è la novità. Quindi abbiamo già delle postazioni, delle telecamere piazzate, in questo momento sono uccelli migratori autunnali che si possono osservare, ma poi c'è anche il discorso dell'elaborazione dei dati, una quantità di dati impressionante, perché noi registriamo H24 e quindi abbiamo già visto delle faine di notte, degli uccelli notturni, ma è un monitoraggio importante per le riserve naturali qui in Abruzzo, perché possiamo in questo modo, abbiamo per esempio proprio ieri, vedevo delle peppole che sono arrivate durante l'inverno, arrivano cose che magari ci sfuggivano all'occhio, sembra un fringuello, ecco quindi anche uno strumento utile per la ricerca scientifica e didattica. Un progetto che nasce quasi in modo fortuito, per esigenze che attengono sia alla sicurezza ma anche alla sorveglianza della riserva, abbiamo iniziato la sperimentazione di questo sistema di videocamere che poi ci è tornato subito utile con l'arrivo del lupo ibrido e abbiamo appunto potuto verificare l'utilità di sorvegliare questi animali. Successivamente anche in seno ad ulteriori sviluppi della rete turistica all'interno della riserva, come ad esempio i sentieri o anche il discorso della canoa o del parco avventura, abbiamo potenziato questo strumento al punto da poterlo utilizzare in chiaro per tutti, in modo particolare per studenti, per la ricerca scientifica e oggi questo progetto fatto insieme a WWF Italia appunto è questo risultato unico per adesso in Italia.